Solo un gioco di poltrone attaccano i 5 Stelle. Emiliano dica cosa fare sui piani di sviluppo rurale. Di Gioia ha fatto la scelta giusta, le dimissioni, ma per i motivi sbagliati, cioè le poltrone. Noi suggeriamo adesso di smetterla di perdere tempo perché la Puglia rischia di perdere 170 milioni e deve spendere 800 mila euro al giorno per non perderli entro il 31 dicembre. Quindi piuttosto che impegnare la struttura regionale in tanti bandi inutili e inefficaci, si impegni la struttura a rispondere alle circa 5 mila domande rimaste in evase perché ci sono tanti agricoltori pugliesi in attesa di risposte da parte della Regione.